Si trovano recluse nel carcere di Contrada Balategia e la disposizione dell'autorità giudiziaria le quattro persone arrestate di risera dai carabinieri della stazione di Niscemi con l'accusa di coltivazione di stupefacenti. Le porte della casa circondareale si sono aperte per Giuseppe Di Garbo, 75 anni, pregiudicato di Butera e per i riesini Giovanni Giuseppero Nobile, 26 anni, operaio, Francesco Correnti, 29 anni, con precedenti specifici e Salvatore Migliore, anche lui, di 29 anni. I militari dell'arma hanno sorpreso i quattro in Contrada Montagna nelle campagne di Butera mentre curavano una piantagione di canapa indiana composta da circa 150 piante e rigavano e portavano le piante che avevano raggiunto un'altezza di circa un metro e mezzo. Dopo un'intensa e puntuale fase di osservazione, i carabinieri sono entrati in azione proprio nel momento in cui i quattro soggetti stavano portando via le piante appena raccolte. Bloccati, sono stati emanettati e tradotti in carcere. Sequestrati tutti gli attrezzi utilizzati per la gestione della coltivazione. Lo stupefacente sequestrato, se messo sul mercato illecito, avrebbe fruttato oltre 150.000 euro. L'operazione di ieri sera fa seguito ad un altro blitz eseguito sempre dai carabinieri il 27 agosto scorso. I militari dell'arma del reparto territoriale di Gela e delle stazioni di Riesi e Butera individuarono in quell'occasione un'estesa piantagione di mariana composta da 3.000 piante con un'altezza media di 180 cm, gelate dalla vegetazione originaria in un fondo agricolo di contrada iudeca tra Butera e Riesi. Il proprietario dell'appezzamento di terreno, un 41enne Riesino, pluripregiudicato, fu denunciato alla Procura Vigera per coltivazione di sostanza superficiente. Importante ai fini dell'individuazione dell'estesa piantagione fu il contributo di un elicottero del nono nucleo elicotteri di Palermo. Il ricavato della vendita delle piante, se messe sul mercato nero, avrebbe fruttato un valore di circa 2 milioni di euro.